Torna Super con una super puntata, ospiti Ipoo, Luna Pop e Gary Barlow, condotto da Vanessa Incontrada, Super, domenica alle 13.45 su Italia 1, in collaborazione con Radio DJ. Mystic Knights di Tirna Nord, quattro cavalieri nella leggenda in lotta contro i guerrieri del male. Ice Lord, signore del ghiaccio con la sua micidiale testa d'ariete, attacca i quattro cavalieri, ma i Mystic Knights rispondono con la catapulta Ailstorm, in grado di lanciare pietre, dardi e di dividersi in due parti. Al loro fianco Pyre, l'invincibile dragone volante che lancia lingue di fuoco. Mystic Knights di Tirna Nord, quattro cavalieri nella leggenda, solo da giochi preziosi. Tieni d'occhio quei monitor, Pedro. Ehi! Fateci il vostro oro. Dobbiamo salvarli. Guardatelo! Stiamo arrivando, ragazzi. È Capitan Fingus. Facciamoli a filetti. Gli unici filetti qui sono quelli del merluzzo dei bastoncini Fingus. Ma come fai a farli così buoni? Beh, questo è il mio piccolo segreto. Bastoncini Fingus. Arrivano i buoni. C'è quel cuscia che non va a prova coi cush cush. Sono cuscinetti, svitati e colorati. Li porti in bici, oppure in bus. E la scuola non scuscia più. Fa la cuscia giusta. Prendi il cusci da Asbro. Action Man è più grande. Dottor X sta provocando un'eruzione catastrofica. Solo Action Man con la sua trivella perforante può fermarlo. Penetra nel bunker di Dottor X e con un missile rotante lo mette fuori in combattimento. Bel colpo, Action Man! Action Man Driller Extreme da Asbro. Vitamine del gruppo B, carboidrati e calcio. Cereali Kellogg's, semplici e naturali, per far crescere sano il tuo cucciolo. A spasso con Shelly, ecco i suoi primi passi. Cammina davvero! E nella carrozzina porta i suoi tesorini. Come sei carina, Shelly! A spasso con Shelly, spingi la carrozzina e lei cammina davvero! Ehi, Skipper, fa la babysitter a uno, due, tre, no, quattro bambini! Skipper babysitter, li curi tu. Lei sa cosa far, c'è il marsupio e la baby borsa. Skipper, sei una mitica babysitter! Sì, pens! Scrivere non è mai stato così divertente! Scegli il tuo personaggio! Tirami fuori da questa penna! Sì, pens! Le prime ed uniche penne parlanti, interattive e divertenti! Sono da GPTronic! Questo sì che è un divertimento! Spider-Man Web Cycle! La super moto dell'uomo ragno con tutta la potenza del lancia ragnatele! Agita la bomboletta, carica, chiudi! Il lancia ragnatele è pronto e puoi anche staccarlo dalla moto! Spider-Man Web Cycle con il suo potentissimo lancia ragnatele! Sono da giochi preziosi! Come ti senti? Un po' abbondante qua mi pare, vero? Sì! No! Io non so niente, non c'è neanche che vi percola una sfilata! Ecco! Canto di qua non c'è! Ficcate su anche il bambino! No, non sto facendo vogliarli! Ciao! C'è, 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 sta facendo gente! Libero infostrada, chiama subito l'155 e fatti mandare a casa il CD-ROM, è gratis. Fai conto? Arrivare a braccia aperte? Posso andare qui? Quindi non cambia solo? Ma che culo mi sto cambiando? Ma dov'è la pariettina? Siamo proprio backstage. Non ce la faremo mai! Ho trovato un fidanzato, finalmente. Ma non te lo presento perché se no ci provo. Tu sei Renegade Luke, vero? Piacere di conoscerti. Aspetta a dire che è un piacere. Luke e Matt, una strana coppia in cerca di guai. Gran bel colpo! O forse sono i guai a cercare loro. Terence Hill. Renegade, un osso troppo duro. Questa sera alle 20.45 su Italia 1. Wrestling si vince per forza. Rip & Flip Wrestlers. Rivivi a casa tua i combattimenti dei più grandi campioni del wrestling. Rip & Flip Wrestlers. Sono magnetici. Puoi agganciare l'avversario e stenderlo al tappeto. E ci sono tutti gli accessori per riprodurre sul ring le mosse tipiche dei grandi eroi del wrestling. Rip & Flip Wrestlers. I giganti del wrestling. Collezionali tutti. E vinci per forza. Rip & Flip Wrestlers. Solo da giochi preziosi. Bel colpo! Tienemi la merenda, papà! Buona questa merenda. È Orochoc. Tutta la leggerezza di oro saiva, unita all'energia e alla bontà di una vera tavoletta di cioccolato al latte. Papà, è la mia merenda? Mi è caduta. Sì, mi è caduta. Leggerezza d'oro, bontà di cioccolato. Mordi la cosa giusta. Mordi Orochoc. E oggi Orochoc regala fantastici premi in Bugs Bunny e Titti. Battano 24 punti! C'era una volta una bellissima principessa. Baby bella addormentata. Ma un giorno una strega le fece un incantesimo e lei si addormentò profondamente. I suoi occhi si chiudono e il cuscino suona davvero. Il principe Ken sa che c'è bisogno di lui. E corre a salvarla. Baby bella addormentata si sveglia. E risero felice e contenti. Barbie la bella addormentata nel bosco. La Barbie dei tuoi sogni. Era una notte buia e tempestosa. Me? Molto! Spaventato! Chi si nasconde dietro a quella porta? Cucu! Grande! Scherzo! Ora fate silenzio! Per favore! Ascoltare! Me! Me! Molto! Felizie! Gli straparlazzi! I tipi pazzi che straparlazzi! Aiuto! Gli straparlazzi! Barsi buffi e gran schiamazzi! Che botta! Ogni botta è una risposta! Povero me! Che tipi pazzi! Gli straparlazzi! Sono Jing! Sono ventiquattro gatti e li trovi nel lago dei Kitties! Con tante figurine impari a scoprire il mondo dei Kitties! Precious Kitties! Un mondo di fuse gattosità per conoscere Kittie e i suoi amici! In ogni bustina sette figurine e nelle maxibustine in più un cucciolo da collezione! Precious Kitties! E telleri gattini di... Mystic Knights di Tirna Nord Quattro cavalieri nella leggenda in lotta contro i guerrieri del male Ice Lord, signore del ghiaccio con la sua micidiale testa d'ariete Attacca i quattro cavalieri Ma i Mystic Knights rispondono con la catapulta Ailstorm In grado di lanciare pietre, dardi e di dividersi in due parti Al loro fianco Pyre L'invincibile dragone volante che lancia lingue di fuoco Mystic Knights di Tirna Nord Quattro cavalieri della leggenda Solo da giochi preziosi Avviso a tutte le pattuglie di carabinieri Micro Machines Tutte le moto e le volanti devono isolare il centro della città È un'emergenza Devono intervenire anche gli elicotteri Ma ci vogliono altri rinforzi Qui ci vuole Frecciablu Ecco che a terra Frecciablu trasporta anche i cingolati E scarica tutti gli automezzi d'appoggio Ora le forze sono al completo Le gazzelle, le moto Tutti i veicoli dei carabinieri E da oggi anche l'eccezionale Frecciablu Micro Machines Le originali Da Hasbro Ehi ragazzi, giochiamo a pasta e pizza Con la cucina, pasta e pizza Ti ci diverti come una pasta Puoi giocare a cucinare, ad impastare Da sfornare, a far tutto Quello che vuoi tu Quello che vuoi tu Gioca a scuola Scrivi o disegni Ripiano con vano contenitore e portapena È un Gran gioco Grazioli McDonald's Happy Meal presenta Mulan Rivivi da McDonald's Le avventure del film E dei suoi simpatici protagonisti Con sei giochi Uno più divertente dell'altro Uno per ogni Happy Meal Tutti da giocare Tutti da collezionare McDonald's